Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. L'Inter di Simone Inzaghi si prepara a scendere in campo con un'inquietudine palpabile. Davide Frattesi, il giovane centrocampista proveniente dal Sassuolo, scalpita per conquistare una posizione da titolare. Nonostante il suo talento indiscutibile, il numero 99 si trova attualmente all'ombra del brillante Enric Mkhitaryan, figura imprescindibile nell'assetto dell'Inter dopo il suo arrivo lo scorso anno a parametro zero dalla Roma. Frattesi, giunto in nerazzurro quest'estate con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, si fa largo nella rosa interista. Desideroso di dimostrare il proprio valore in un contesto costruito esplicitamente per trionfare non solo in Italia, ma anche a livello europeo. Inzaghi, con la sua solida esperienza, deve navigare tra le gerarchie già stabilite all'interno del gruppo, ma il potenziale di Frattesi brilla con una luce propria, alimentando la tensione e l'aspettativa intorno alla sua futura affermazione nel centrocampo milanese.